Sempre più kafkiana e al momento inceppata, la situazione all'ARPAL, dove anche ieri il direttore generale Cassano, mandato a casa con una legge ad personam, si è presentato in ufficio ed ha marcato il Beijing, attesa di ricevere la lettera di licenziamento che però nessuno alla regione vuole firmare. Adesso però il Dipartimento Lavoro sta attuando una strategia di accerchiamento, puntando a fare terra bruciata intorno a Cassano per costringerlo, nei fatti, ad abbandonare il campo. La dirigente Pellegrini, indicata nella legge anti-Cassano come la sua sostituta, ha convocato prima venerdì scorso, poi di nuovo ieri, i sette dirigenti dell'ARPAL, facendogli firmare verbali che di fatto li costringono ad isolare l'ex direttore generale, col quale, ad esempio, non possono più parlare né scambiarsi mail. Anzi, per maggiore sicurezza, la casella postale di Cassano è stata proprio cancellata. Venerdì i dirigenti hanno partecipato all'incontro abbastanza confusi, ieri si sono divisi, in quattro hanno firmato il verbale, gli altri tre si sono rifiutati e a nulla è valso l'avvertimento della dirigente sulla scadenza del loro mandato e, in un caso, sulla scadenza del contratto. Cassano, consigliato dai suoi avvocati, resterà all'ARPAL, anche se cambieranno la serratura del suo ufficio. Anzi, non aspetta altro, deciso com'è ad andarsene solo dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento che solo Emiliano, probabilmente, può mandargli.